edilba da sempre il modo migliore per rivestire e completare gli ambienti della tua casa perché edilba da sempre offre la possibilità di scegliere le pavimentazioni e i rivestimenti più innovativi e resistenti è solo questione di gusto dalle classiche misure fino alle maxi lastre alte 2 metri 80 sono tutti materiali di gran pregio che interpretano le più recenti tendenze del design edilba da sempre vi conquista con i mobili bagno più attuali che si integrano perfettamente a sanitarie rubinetterie selezionati per appagare tutte le esigenze di stile e funzionalità edilba da sempre espone tutte le novità e i prodotti frutto delle più avanzate tecnologie produttive come le vasche in mineral marmo o il box doccia con vetri lavorati perché accanto alla tradizione vi sia sempre spazio per l'innovazione edilba a palermo in via costantino lascaris 7 la scelta di chi vuole il meglio da sempre